Daniele si sta chiudendo la settimana giallo-blu, probabilmente si chiuderà anche la tua esperienza in giallo-blu, io ho tantissimi bei ricordi, tu che riporto eventualmente ti porterai dentro all'Elles Verona. Innanzitutto è stata una settimana bellissima, sono contentissimo di stare sempre insieme a voi perché indipendentemente se c'è la squadra o meno, anche al di fuori della squadra ci sono delle persone fantastiche come voi e quindi è sempre un piacere stare insieme a voi e spero che anche per voi sia un piacere stare insieme a me, però al di là di questo ci siamo divertiti, è stato bello, abbiamo fatto un po' di balcano, però è stato bello, quindi sono contento. Sì, la mia esperienza in giallo-blu probabilmente, anzi toglierei anche il probabilmente purtroppo, però è finita e quindi porto con me tanti bei ricordi, non ce n'ho uno in particolare. Dire sicuramente l'anno della promozione, l'anno scorso, penso che sia la cosa più bella, anche perché sinceramente quest'anno, nell'ultimo anno, insomma, bei ricordi ne ho pochi, quasi niente. Quest'anno posso dire che il ricordo molto più bello che ho avuto è quando sono stato premiato, insomma, prima della partita, adesso non ricordo contro chi, quando sono stato premiato dall'AC, insomma, mi ha fatto molto piacere, devo ammettere anche un po' emozionante, vedere comunque la stima dei miei tifosi del Verona, comunque tutto lo stadio mi ha applaudito e quello è stato molto toccante e niente, quindi, insomma, sono contento di questi due anni a Verona, ne avrei fatti molti altri, però, insomma, il calcio è questo e bisogna accettare sempre tutto. Io lo so che tu mi hai detto giustamente l'anno della promozione è troppo facile ricordarselo, però è anche troppo facile dimenticarselo. Il Verona veniva da anni bruttissimi, anche quell'anno lì della promozione, sì, è tutto bello raccontarlo adesso, però è stato difficile e in tanti momenti ci ha salvato Daniele Cacièi. Prima scherzando insieme abbiamo detto Brescia. Io c'ero, ti ho sempre seguito e ti dico che le gioie che hai fatto provare ai tifosi del Verona difficilmente verranno dimenticate, perché il tifoso del Verona non dimentica e te l'hanno dimostrato in tanti modi. No, no, io ho sempre detto più volte che quest'anno magari sarei potuto andare via a gennaio, però dentro di me non l'ho mai voluto, perché comunque, nonostante tutte le amarezze che ho mangiato quest'anno, non me la sentivo di andare via, perché era più forte di me. Era più forte di me, andare via stavo ancora più male di quello che magari stavo, perché comunque ero ai margini della squadra e quindi non me la son sentita. E devo essere sincero, insomma, se non me la sentivo è perché comunque Verona città, i tifosi, insomma, mi hanno sempre dato un qualcosa che io non ho mai provato da nessun'altra parte. Mi hanno sempre fatto sentire importante come l'anno scorso quando giocavo e questo è solo grazie alla gente. Quindi non posso essere solo che riconoscente e dire grazie. D'altronde io sono un giocatore e sono venuto a Verona, insomma, a fare quello che dovevo fare e quindi... Direi che l'hai fatto anche molto bene. Sì, l'ho fatto anche molto bene, di questo ne vado orgoglioso, perché l'ho fatto in una piazza che tra l'altro ho battuto un record e non so dopo quanti anni che non... Un record che, ricordo, tuttora è il record di gol dell'Elas Verona nella singola stagione. Tantissimi anni che non veniva battuto, l'ho battuto e spero che resterà ancora questo record per tantissimi anni. Al di là di questo, insomma, voglio ringraziare veramente tutti quanti perché sono stato bene e comunque la mia parentesi Verona finisce a livello calcistico, ma non a livello privato. Io ti dico che tu con questo tuo carattere, che forse non è facile all'inizio da capire, ma quando uno capisce che persona sei, io vedo la cosa che mi piace tanto vedere il rispetto che ti sei guadagnato dentro lo spogliatoio. Quest'anno hai giocato poco, sicuramente non hai avuto grandi soddisfazioni, però non ti è mai mancato il rispetto dei tuoi compagni che quando parlano di te lo fanno sempre molto bene. Sì, ma questo, vado orgoglioso anche di questo perché comunque fa parte del mio carattere, quindi parto sempre dal presupposto che devo rispettare e voglio essere rispettato, quindi quando tu per primo rispetti le altre persone esigo rispetto nei miei confronti, quindi ho sempre fatto così e mi sono sempre trovato bene. Poi come dici tu, insomma, magari posso avere un carattere un po' particolare o mi ami o mi odi, quindi magari qualcuno può sostare antipatico, ma d'altronde insomma non a tutti puoi stare simpatico come a me non stanno tutti simpatici, quindi questo fa parte anche della persona o del carattere di una persona. Però mi sono sempre trovato bene nello spogliatoio, c'è l'anno scorso, ma anche quest'anno che insomma, come hai detto tu, sono stato sempre ai margini, però non ho mai comunque mollato i rapporti personali con tutti quanti, poi è normale che con 3-4 persone abbiamo stretto un po' più i rapporti, però a livello generale mi sono sempre trovato bene con tutti e mi dispiace lasciare tutti quanti. Ma credo sia normale in uno spogliatoio comunque di 26-27 persone avere un rapporto più stretto con uno piuttosto che con l'altro. Io ti chiedo, hai fatto la storia del Verona, è inutile che ci giriamo attorno, la realtà è questa. L'emozione più bella che ti ha regalato il Verona, la gioia più grande che hai provato al Verona, perché di gol ne hai fatti 24, tutti speciali, perché tanti sono stati bellissimi e importantissimi. Ma la tua personalmente, di Daniele Caccia, la gioia più grande che hai provato con la mare del Verona addosso? Ma la gioia più grande, più grande, penso che sia stata la partita a Castellamare di Stabbia. Quello penso che sia stato il massimo, l'apice della felicità, perché comunque mancava ancora una partita, però insomma vedevi l'obiettivo che al 95% l'avevi raggiunto, quindi insomma quella è stata la gioia più grande che ho avuto. Poi ci sono state tante altre partite, perché non dimentico Lanciano, non dimentico Brescia, insomma non dimentico la tripletta di Varese. Beh, sono state tante, tante, le porterò sempre dentro con me. Ti faccio le ultime due domande. Una, volevo farti i complimenti, perché ho conosciuto un pochino la tua famiglia e devo dire che è una famiglia splendida e spero che vi stiate divertendo, o ti sia divertito in questo tempo che è passato, quel poco che rimane, con il tuo splendido bambino e tua moglie. No, no, si stanno divertendo tantissimo anche loro. La mia famiglia è la cosa più bella che ho al mondo e quindi per loro fare di tutto, per mio figlio fare di tutto e quindi ci tengo insomma anche che si divertano. perché in questo mese è giusto fare un po' di vacanze e divertirci tutti quanti. Quindi insomma si sono divertiti, ci stiamo divertendo tutti quanti e adesso ci abbiamo alla fine. Spero di non essere presuntuoso, però io ti dico una cosa. A nome mio e penso di molti tifosi dell'Esverona, grazie perché hai fatto veramente tanto per noi. No, io in questi due anni quando giro in centro per Verona ancora oggi incontro delle persone che mi dicono grazie, ma quando mi dicono grazie mi sorprendo perché comunque forse sono io che devo dire grazie a loro. Perché il veronese è una popolazione che non conoscevo e da quando l'ho conosciuta devo dire che sono rimasto sbalordito perché hanno una fede per l'Ellas che va oltre ogni limite per loro e quindi questa è una cosa che non avrei mai pensato di poter vedere in questo mondo. Invece ti devo dire, sono venuto a Verona e ho visto il tifoso dell'Ellas, ho visto veramente che quando ti parla insomma c'ha la passione negli occhi, è una fede per loro. E quindi devo dire grazie a loro perché mi hanno fatto comunque loro vivere delle emozioni giornaliere, quotidiane che sono state bellissime e queste mi mancheranno tantissimo. Grazie Daniele. Grazie a voi.